Tutti noi, se oggi ci fermiamo un po' e guardiamo il nostro cuore, vedremmo quante volte, quante volte abbiamo chiuso le orecchie e quante volte siamo diventati sordi. E quando un popolo, una comunità, ma diciamo anche una comunità cristiana, una parrocchia, una diocesi, chiude le orecchie e diventa sorda alla parola del Signore, cerca altre voci, altre signori e va a finire con gli idoli, gli idoli che il mondo, la mondanità, la società li offre. Si allontana dal Dio vivo. E queste due cose, non ascoltare la parola di Dio e il cuore indurito, chiuso in se stesso, fanno perdere la fedeltà. Si perde il senso della fedeltà. Dice la prima lettura, il Signore è lì, la fedeltà è sparita e diventiamo cattolici infedeli, cattolici pagani, o, più brutto ancora, cattolici atti, perché non abbiamo un riferimento di amore al Dio vivente. Non ascoltare e voltare le spalle che ci fa indurire il cuore ci porta su quella strada della infedeltà.